ragazzi amici del canale anche questa volta ci abbiamo fatta siamo arrivati al rifugio son forca guardate che spettacolo io e la mia solita compagno di merende cosa ci dici? anche stavolta siamo soli soliti dai adesso vi facciamo vedere come ci siamo arrivati ciao 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 ragazzi bentornati sul canale oggi ci troviamo il passo delle tre croci zona cortina d'ampezzo il passo del tre croci è famoso perché da qui si può salire al lago di sorapis ma questo non è il periodo questo però è il periodo per andare a rifugio son forca che si trova ai piedi del monte cristallo ed è lì che andremo giusto speriamo speriamo ci andiamo rifugio san forca 2235 partiamo da qui il giro dovrebbe essere un giretto da un'ora e mezza di verso lì poi quando arriviamo abbiamo preso tutto ramponi abbiamo preso le ciaspole e vediamo che fare ok dai partiamo ciao ciao aiuto donna chi se deve presto? mi sa che l'ha fatta stanotte siamo al 20 di aprile ci sta tempo la settimana scorsa faceva caldo e dobbiamo salire all'alba perché era pericolosa adesso le separature sono scelte stamattina popolo zero qui al passo delle tre croci vediamo se l'aria si scalda durante il giorno no 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 not this time hey can you hear me wherever you are I'm praying to angels and wishing on stars it's we'll find each other no matter how far cos five thousand miles how far cos five thousand miles is breaking my heart now 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 amici del canale ecco in fondo il nostro punto di partenza guardate che spettacolo a mezz'ora della partenza adesso abbandoniamo la strada e proseguiamo per il sentiero 203 per Son Forca a mezz'ora a mezz'ora ecco a un'ora e mezza della partenza proprio da cartello siamo arrivati al rifugio Son Forca qui possiamo vedere anche la forcella non mi ricordo il nome comunque la forcella che poi si sale al rifugio Lorenzi il rifugio che è dismesso e da lì si può fare la ferrata di Bona che è nei miei programmi per la prossima estate è bello quel canalone lì eh cosa facciamo proviamo ad andare su un pezzo vogliamo andare su un pezzo intanto direi ci fermiamo qui un attimo e dopo vediamo da farlo ok comunque la neve la neve necessita di ramponcini se volete salire in questi giorni la neve necessita di ramponcini perché sotto è ghiacciato e quindi ci va meglio con i ramponcini anzi è anche più sicuro dai adesso ci fermiamo un attimo non 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione